della Citigas. Michel Oris cambia con Mordente va da tre punti o meglio da due punti. Ma non ci riesce. Luchs che innesca Mordente che non sbaglia da tre punti e Casertas. C'è la Fabio intanto già. È palla rubata di Mordente su Eis che va ad appoggiare con il mancino cinque punti. Mi capita che salta spesso vedendo sui campi. Mordente fa Sporterade e trova il canestro. Il canestro decisamente che porta avanti il pallone rapidamente Mordente va da tre punti e trova. Mamma mia che guerriero.